C'è una dolcissima mamma pinguino che ha freddo! Insieme ai suoi cuccioli ha bisogno del tuo caldo abbraccio! I piccoli stanno per nascere! Cercano l'uovo e scopri quanti saranno! Adottali tutti! Mommy Surprise è in edicola! E nei migliori negozi di giocattoli trovi anche i Mommy Surprise in versione Pig!